Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Grazie Presidentessa. Dunque, come ben sapete, il gruppo del Movimento 5 Stelle ha partecipato attivamente, sì, in tutte le fasi che hanno portato alla stesura del nuovo regolamento del Consiglio Comunale. E lo diciamo subito, in maniera chiara, che questo rappresenta un passo in avanti rispetto al passato. Il Consiglio Comunale si sta dotando di uno strumento di lavoro nuovo e naturalmente poi vedremo alla prova dei fatti se si rivelerà uno strumento più efficace oppure no. Noi, nel nostro piccolo, siamo convinti che ci aiuterà ad ottimizzare i tempi del Consiglio Comunale e in questo senso potrà essere più utile anche la cittadinanza, anche se sono gli uomini che contano, come dicevo, quando abbiamo iniziato a discutere di questo oggetto. E quindi dipenderà sempre da noi, a prescindere dal regolamento, se i lavori dell'Aula saranno fruttuosi oppure no. Il meglio è nemico del bene. Certo, poteva essere steso un regolamento migliore, avremmo potuto inserire delle previsioni o ridurre delle previsioni lasciando al buon senso alcune questioni senza bisogno di introdurre delle rigidità a un sistema già sovraccarico di regole e regolamenti enorme. È vero. Però devo dire anche che ci sono un sacco di passi in avanti rispetto al passato. E lo dico, guardate, noi avevamo presentato diversi emendamenti, diversi emendamenti, alcuni sono stati accolti, altri no. Di cosa siamo contenti? Siamo contenti di essere riusciti ad introdurre una previsione unica per la gestione dei gettoni di presenza, di aver introdotto il divieto di doppio gettone per la partecipazione alle commissioni e al Consiglio Comunale o in caso che i consigli comunali si protragano oltre la mezzanotte. Siamo contenti che sia sparita la parola partiti dal nostro regolamento e che abbia prevalso invece la parola gruppi consigliari. Siamo contenti che in caso di ballottaggio prevalga il criterio del consigliere più giovane anziché di quello più anziano, non peraltro perché segna una discontinuità rispetto al passato. Di cosa non siamo contenti? Beh, non siamo contenti un po' della timidezza che ha avuto questo Consiglio Comunale nel rifiutare e respingere alcune nostre proposte che crediamo innovative, come il discorso dei consigli comunali aperti, che si tengano in altri luoghi e che possano deliberare, come il poter dare la parola per occasioni eccezionali ed eventi particolari anche alla cittadinanza, come il fatto che non sia stata recepita la nostra proposta di introdurre delle videoriprese per quanto riguarda le commissioni e anche da parte dei cittadini in aula. E non siamo contenti che non sia stata accolta la nostra proposta di legare il diritto a percepire il gettone di presenza a un criterio anche oggettivo come quello della presenza in aula, per esempio. Detto questo, voglio dire che in realtà l'aspetto più negativo di tutto il lavoro probabilmente è il tempo che abbiamo impiegato a causa nostra, per via degli emendamenti che sono stati presentati. 24 sedute del gruppo di lavoro, 9 di commissione, ho perso il conto delle sedute di consiglio. Questo è stato un immanespreco, avremmo dovuto avere in questo caso più coraggio, cari colleghi consiglieri, rimanere qui dopo due o tre sedute, a un certo punto gli abbiamo presentati noi gli emendamenti. Bene, stiamo qua finché non esauriamo gli emendamenti e non andiamo oltre, anche perché così facendo ci siamo giocati metà dell'imposta di soggiorno per approvare il regolamento comunale. Credo che l'ordine di grandezza della spesa sia quella tra le commissioni e le sedute di consiglio. Poco ci manca, ma credo che siamo vicini al 50%. Tutto questo non inficia comunque il giudizio finale sul lavoro. Ci prendiamo la responsabilità di condividere in questo caso con la maggioranza, ma con tutte le forze che hanno lavorato, con tutti i consiglieri che hanno lavorato a questo nuovo testo. Quindi noi voteremo favorevolmente al nuovo regolamento del consiglio comunale e quindi cogliamo questo momento come augurio, come auspicio per un cambiamento nel senso di riuscire a lavorare meglio grazie anche a questo strumento.